allora buongiorno a tutti possiamo iniziare la lezione di oggi allora buongiorno l'obiettivo di oggi è quello di vedere assieme le domande e le risposte al questionario che vi avevo proposto in preparazione al laboratorio della settimana scorsa cioè sull'ereditarietà così vediamo assieme i punti chiave e chiariamo quali erano le risposte corrette dopodiché inizieremo ad affrontare il problema di come gestire gli errori in java e vedremo come in java il modo standard di gestire gli errori è sostanzialmente quello di sfruttare il meccanismo delle eccezioni iniziamo a parlare a questo punto di questionario su la parte di ereditarietà allora vi ingrandisco un po il testo vi ingrandisco un po se riusciamo a ok adesso mi sembra che si veda e scorra correttamente ok allora la prima delle domande è quella che vediamo qua quindi sostanzialmente venivano date due classi una classe publication con un attributo title e un metodo print non meglio specificato quindi possiamo immaginare che dentro questo corpo del metodo print ci sia sostanzialmente un metodo che stampa il titolo ad esempio e poi una classe book che estende publication poi a partire da queste due classi ci sono due dichiarazioni che quelle che vediamo qua ovvero la creazione di una nuova pubblicazione p e la creazione di un nuovo book b che sostanzialmente fanno riferimento alle classi sopra a questo punto ci sono una serie di istruzioni una di queste non è corretta allora iniziamo a vedere una per una e le commentiamo ovviamente se avete osservazioni o domande la chat è a disposizione io quindi cerco di rispondere immediatamente su ogni su ogni singola domanda prima istruzione p uguale a b che cosa avviene avviene sostanzialmente che passiamo da un riferimento di tipo book a un riferimento di tipo publication ora visto che publication è una super classe di book ovvero visto dall'altro senso book estende publication questo è quello che si chiama un upcast ricordatevi che normalmente nelle rappresentazioni grafiche o ml le classi di base stanno in alto e quelle derivate stanno in basso che è anche quello che vediamo nelle due dichiarazioni che sono riportate qua sopra c'è in alto publication e in basso book quindi quello è un tipico esempio di upcast ovvero ho un riferimento di tipo book e lo voglio far diventare un riferimento di tipo publication gli upcast sono sempre comunque sicuri perché una classe derivata include e è sostanzialmente una specializzazione è un caso particolare di la classe di base e quindi questa operazione è sicura non è neanche necessario mettere il cast perché sostanzialmente se volete lo inserisce in maniera implicita il compilatore cambiando semplicemente il tipo del riferimento cambio di tipo che è safe p.print p.print funziona perché p è di tipo publication se andiamo a vedere publication qua su non include nessun metodo print ma estende book e in book troviamo il metodo print quindi il metodo non è direttamente presente nella classe ma è presente in una classe di base e quindi operazione assolutamente lecita e corretta l'ereditarietà ci dà proprio questa possibilità di andare a importare dentro una classe tutto quanto rappresenta la classe di base b.print a maggior ragione b è un riferimento di tipo book scusate ho fatto il discorso contrario p.print ovviamente funziona b.print è un riferimento di tipo book quindi ha la classe che è di base che gli dà il metodo print p.title uguale a quicksilver ecco qui cerchiamo di accedere tramite un riferimento di tipo publication all'attributo title ecco title però è privato e quindi è un'operazione che non è corretta boolean boolean same uguale b uguale uguale p cosa stiamo facendo? stiamo andando a confrontare due riferimenti b e p e il risultato che ovviamente sarà un valore booleano o vero o falso viene memorizzato dentro questa variabile che si chiama same questa è una scrittura del tutto lecita non sappiamo se sia vero o sia falso diciamo che se i due oggetti sono quelli che sono mostrati più in alto probabilmente sarà falso però è ovviamente una scrittura del tutto lecita quindi l'istruzione che non è corretta in questa domanda è p.title uguale a pixel seconda domanda abbiamo la classe publication un po' più ricca di quella di prima che ha sostanzialmente un attributo privato title un attributo con visibilità di package string un attributo protected here e un attributo pubblico price a questo punto ci mettiamo all'interno della classe book che estende publication in particolare nel suo metodo getinfo e cerchiamo di capire quale di queste istruzioni sotto siano corrette o errate valgono tutte le regole di visibilità ovvero in una classe derivata come book noi siamo in grado di vedere tranquillamente ovviamente price perché è pubblico year in quanto è protetto possiamo vedere author perché come vedete sia publication che book si trovano sostanzialmente nello stesso package quindi la visibilità di package ci permette di vedere infine title title è privato quindi in ogni caso è visibile soltanto all'interno di publication e da nessun'altra classe quindi non esiste un modo di rilassare la visibilità e quindi sostanzialmente quello è invisibile da qualunque altra classe tranne publication quindi tra le varie opzioni scusate non ho evidenziato bene return title è quella che non funziona perché sostanzialmente cerca di accedere a un attributo privato della classe di base che comunque è invisibile allora la domanda che vedo in chat è possibile accedere di nuovo ai test per poterle rifare sostanzialmente no questi erano degli spunti di riflessione per la preparazione al laboratorio non sono valutati in alcun modo quindi sono qua e quindi potete se volete rivederli potete rivedere la lezione con calma non c'è motivo per rifare sostanzialmente il questionario altra domanda qui abbiamo una serie di classi le solite quindi abbiamo book publication dove book estende publication la differenza è che qui non vengono menzionati attributi ma viene menzionato semplicemente un metodo print che stampa pub per publication e book per il libro a questo punto quello che è scritto qua sotto è sostanzialmente la creazione di due oggetti p publication e v book esattamente come nelle domande precedenti allora domanda nella prima domanda non c'è scritto dove sono definiti due oggetti se l'oggetto di tipo publication fosse definito nella sua stessa classe allora title sarebbe visibile allora andiamo parlando di questa domanda il codice è messo dentro questo metodo che sta dentro get info quindi è un'altra classe che è all'esterno di di publication se questo codice quindi return title fosse messo dentro alla prima domanda la prima domanda sì se p.title fosse se questa dichiarazione fosse stata dentro la classe publication allora sì effettivamente title sarebbe stato visibile perché mi sarei trovato dentro un metodo di della classe publication quindi quello è veramente l'unico caso in cui title è visibile sto dentro la classe in realtà publication qui è un unico metodo print che non è specificato quindi questo si assume che sia messo fuori allora l'ultima domanda che stavamo considerando è quella in cui ho la stampa di book e di print e di scusate di di publication vedete che in questo caso ho un override quindi il metodo print sostanzialmente ridefinisce il metodo print della classe di base e quindi quando il metodo print viene invocato su un oggetto si va a verificare qual è la sua classe effettiva e viene chiamata la variante quindi b.print essendo b un book andrà a eseguire questa variante mentre invece p.print essendo p una pubblicazione andrà a eseguire la prima variante e quindi stamperemo prima book e poi pub altra variante dello stesso problema dove la differenza è che qui abbiamo non un riferimento di tipo book che è un riferimento di tipo publication ma bensì due riferimenti entrambi di tipo publication cambia qualcosa in termini di dynamic binding cioè il meccanismo che va a cercare il metodo corretto da invocare sostanzialmente no quindi che io invochi p2.print quindi con riferimento di tipo publication a un oggetto di tipo book oppure invochi b.print dove b è un riferimento di tipo book non cambia nulla la java virtual machine che cosa fa? va a vedere qual è il tipo effettivo dell'oggetto puntato da quel riferimento prende la sua classe se nella sua classe c'è il metodo print come effettivamente è in questo caso lo esegue quindi p1 è una publication p2 è un book quindi quello che verrà stampato sarà pub e poi book allora domanda su questo cosa serve avere un riferimento di tipo publication invece di riferimenti di tipo book perché se io sto scrivendo del codice generico che possa funzionare sia con le publication che con i book il vantaggio è che ho il riferimento di tipo publication quindi non devo fare tante varianti if per andare a vedere qual è il tipo effettivo dell'oggetto questa è un'operazione che viene fatta in maniera trasparente dalla java virtual machine quindi se quei due p1 e p2 fossero ad esempio elementi di un array io avrei un array di publication e dentro l'array publication potrei trattare in maniera assolutamente indifferente pubblicazioni libri o qualunque altra sottoclasse di publication quindi ho la possibilità di scrivere del codice che è più generico invece di andare a scrivere codice molto complicato che va a vedere tante casistiche diverse le casistiche sono gestite direttamente in maniera automatica dal meccanismo di dynamic binding appcast allora qui abbiamo un riferimento di tipo object o un riferimento di tipo string che punta a un riferimento di tipo string buffer un integer e un int e qui abbiamo un po' di conversioni o uguale a s passiamo da string a object questo è un appcast come dicevamo prima è sicuro e quindi il compilatore ce lo lascia fare senza dover mettere neanche esplicitamente il cast o uguale a b o è un object b è uno string buffer va allo stesso discorso di prima o uguale a null possiamo sempre comunque assegnare null a un a un riferimento o uguale a j questo è un pochettino più sottile perché in linea di principio potremmo immaginare che sia errato perché j è un intero mentre invece o è un oggetto e quindi diciamo probabilmente è errato in realtà dobbiamo ricordarci che esiste il meccanismo di auto boxing che è un meccanismo che permette di andare a costruire delle classi degli oggetti di classi wrapper in maniera automatica tra l'altro se vi viene un dubbio quello che potete fare è aprire eclipse creiamo un nuovo progetto che chiamiamo prove scusate ho chiamato progetto ma non ho detto che deve essere un progetto java allora java project prove qui dentro vado a mettere una nuova classe auto boxing con un main vado a definire una variabile intera j uguale 42 una variabile object o uguale o uguale a j e come vedete il compilatore non ci dice nulla ci dice sostanzialmente che quella scrittura è corretta perché perché sostanzialmente è è un integer uguale o instance of integer integer qui se io eseguo questo codice vedete che ci dice true questi piccoli frammenti di codice che possono essere piccoli come questo possono essere un po' più grandi sono molto utili per andare a verificare qualche dubbio che voi avete allora il primo punto in cui andare a guardare sono ovviamente le pagine di documentazione ufficiale le API se però lì non avete la risposta ecco questa è una risposta andate a scrivere il codice e vedete se funziona o meno è molto più comodo scrivere un piccolo programmino separato che verifica un'idea che voi avete piuttosto che andare a scrivere direttamente il codice e poi scoprire che non funziona meglio una cosa isolata e scoprire se funziona o meno e dopodiché se l'idea funziona la portate nel vostro programma questo modo di operare di solito si chiama andare a creare quelli che sono degli spike ovvero delle piccole variazioni temporanee che poi andremo a buttare via ma che però servono per verificare la bontà di un'idea normalmente lo spike si fa per andare a verificare delle idee magari un po' più complicate però funziona benissimo anche a un livello più basso per verificare come funziona il codice quindi tornando alla nostra domanda o uguale a j che potrebbe in teoria sembrare errata perché cerco di assegnare a un oggetto un valore di tipo int che è primitivo in realtà è corretto perché entra in funzione del meccanismo di autoboxing quindi l'autoboxing non funziona solo quando io faccio un'assegnazione da int a integer ma funziona anche quando faccio un'assegnazione da int a object ovviamente il contrario tendenzialmente non funziona nel senso che se io vado a scrivere j uguale a o il compilatore mi dice che non può convertire un object in un int questo perché perché il compilatore guarda esclusivamente quella riga di codice e da quella riga di codice vede che c'è un oggetto vede che c'è un int e quindi non ha idea se l'oggetto punti un oggetto integer e quindi effettivamente si possa fare una conversione oppure no noi magari lo sappiamo ma il compilatore non è in grado di fare questa verifica quindi l'autoboxing funziona perché il compilatore sa che un int può sempre comunque essere convertito in un integer il quale a sua volta è un oggetto e quindi in questo caso funziona il meccanismo di autoboxing tornando alla nostra domanda ecco passiamo a s uguale a b s è una stringa b è uno string buffer sono due classi completamente scorrelate nel senso che entrambe derivano da object ma non hanno nessun altro meccanismo sì è vero che string buffer ha un metodo che si chiama toString però toString è un metodo non è un meccanismo di conversione per cui il compilatore ci dice sostanzialmente che non è possibile convertire uno string buffer in una string se voglio fare questa operazione devo chiamare il metodo toString sull'oggetto string buffer e questo automaticamente mi restituisce una stringa e quindi posso assegnarla poi ovviamente a un riferimento di quel tipo allora questa è un po' più complicata abbiamo le solite due classi publication quassù in alto e soltanto la classe publication che ha un attributo privato title un attributo con visibilità di package string attributo protetto year e un attributo pubblico price abbiamo abbiamo un metodo che si chiama print object questo metodo ovviamente non sta dentro publication sta all'esterno in questo metodo cosa faccio chiamo il toString dell'oggetto e poi faccio la stampa di questa stringa ok l'ho fatto in due passaggi in realtà quando io passo un oggetto a print in realtà viene stampato viene chiamato toString e viene stampato il risultato se io vado a fare publication p uguale new publication e poi faccio print dp che cosa succede? immaginiamo che la classe publication sia questa e non ci sia nient'altro abbiamo visto che in questo caso il metodo toString non essendo definito dentro la classe publication verrà cercato nelle sue classi di base e quindi object e quindi verrà eseguito il metodo toString di object che nel caso specifico stampa il nome della classe seguito da un codice unico il bello del toString è che essendo definito all'interno di object che è la classe di base di tutti gli oggetti è disponibile sempre e comunque il risultato potrebbe non essere quello che vorremmo cioè quello che stampa il valore degli attributi però funziona e non ci dà nessun errore in fase di esecuzione confronto qui vi ho riportato l'interfaccia comparable che direi avete già visto allora domanda su quello precedente toString non è definito non è definito in publication ma è definito nella classe di base object quindi sostanzialmente quando chiamo questa operazione il compilatore va a vedere la classe effettiva di o che sarà un oggetto di tipo publication in publication non trova toString va a vedere nella classe di base che ovviamente è object e dentro object c'è il metodo toString quindi comparable l'abbiamo già visto l'abbiamo utilizzato un certo numero di volte andiamo a dire che la classe university implementa comparable facendo un compare to non sappiamo di che tipo immaginiamo che sia scritto nel miglior modo possibile quindi corretto abbiamo un oggetto di tipo università quale di queste istruzioni è sostanzialmente errata 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 in termini sintattici vuol dire che il compilatore ci dice che c'è un errore ok quindi attenzione a distinguere tra un'istruzione errata nel senso che il compilatore ci segnala un errore da un'istruzione che può generare un'eccezione runtime quindi errata è un'espressione che si riferisce alla fase di compilazione non alla fase di esecuzione a compare to di abc sebbene questo tipo di scrittura possa non avere molto senso in realtà è sinteticamente corretta perché il metodo compare to accetta un object e la stringa è di fatto un oggetto andiamo a definire un altro oggetto comparable c e diciamo che è uguale a questa istruzione è corretta perché l'università implementa comparable e poi facciamo c.comper to questo di nuovo lo possiamo scrivere perché c essendo un riferimento di tipo comparable ha tra i metodi visibili all'interno di quella interfaccia compare to e quindi operazione corretta vado a definire un altro oggetto university e faccio un confronto tra a e b corretto e anzi questo è probabilmente l'unico uso che dovrebbe essere ragionevole e dovremmo andare ad avere object o uguale a o .compare to db ecco questo ci dà un problema perché dentro mentre se mentre questa operazione che è un upcast funziona correttamente ed è corretta questa operazione invece non è corretta perché il compilatore va a vedere se all'interno del di object esiste un metodo compare to non c'è object è una classe che non deriva da nessun'altra classe quindi non c'è neanche una classe di base in cui andare a vedere e quindi questa scrittura è sintaticamente errata il compilatore ci dice non esiste un metodo compare to all'interno della classe object è di nuovo corretta quest'ultima scrittura che ci dice ci confronta a con null sta a noi quando andiamo a scrivere il metodo compare to fare in modo che se viene passato null non venga generata un'eccezione quindi dobbiamo scrivere il codice in maniera sicura andando a verificare i valori dei parametri è un qualcosa che di solito non viene richiesto negli esercizi ma nella vita reale quando andrete a scrivere programmi veri che qualcuno dovrà utilizzare è bene che facciate tutti i controlli sui parametri perché non si sa chi chiama i vostri metodi e quindi potrebbe passare qualunque cosa quindi questo è corretto sintaticamente a runtime potrebbe dare dei problemi a meno che voi non abbiate scritto il codice in maniera pulita quello che è sbagliato dal punto di vista sintattico è questo perché non tanto la prima ma questa seconda istruzione è errata questo è invece una classe employee che ha un metodo void increase salary e una classe manager che estende employee qui che cosa andiamo a scrivere? quale di queste è errata allora partiamo dal fondo questo è un metodo che accetta un double quindi è sostanzialmente un metodo diverso da quello precedente ed è quello che si chiama un overload quindi aggiungo un altro metodo che ha lo stesso nome ma dei parametri diversi e quindi non c'è problema stesso discorso per questa variante o questa variante il fatto che abbiano dei parametri diversi li rende dei metodi completamente scorrelati dall'altro hanno incidentalmente lo stesso nome ma sono distinti e quindi verranno chiamati in funzione dei parametri passati a quel metodo void increase salary come vedete questa dichiarazione è esattamente identica quella presente in employee quindi questo è quello che si chiama un overload all'interno di manager posso andare a scrivere del codice che modifica raffina o altera completamente quanto presente nella classe di base employee questo invece è un errore perché perché nella classe di base increase salary restituisce void non ci sono parametri diversi e quindi non riusciamo a distinguere non è un override scusate non è un overload nel senso che dovrebbe avere dei parametri diversi non è neanche un override perché il tipo di ritorno è diverso quindi il compilatore ci dice che questa scrittura all'interno della classe derivata non è corretta perché non è sufficientemente diverso rispetto alla classe al metodo omonimo presente nella classe di base quindi questo è la dichiarazione errata downcast abbiamo due classi publication e book che abbiamo già visto prima abbiamo tre riferimenti object publication e book quali di queste dichiarazioni può generare un errore runtime allora il primo sostanzialmente è quello che è un upcast perché object è una classe di base di publication quindi non ci sono problemi questo è un altro upcast perché b deriva da publication b che è un book deriva da publication che deriva a sua volta da object e quindi è un upcast questa specifica scrittura con il cast esplicito è corretta ma non è esattamente necessaria quell'upcast avrei potuto eliminarlo p cast a publication di un book questo di nuovo è un upcast perché book è una sottoclasse di publication quindi questo è sempre corretto cast da publication a book questo è veramente un downcast passo da publication classe di base a book sottoclasse se ricordate la rappresentazione con i diagrammi di Venn l'insieme dei libri è un sotto insieme delle pubblicazioni quindi se io prendo una pubblicazione non è detto che quella pubblicazione sia anche un libro è possibile infatti il compilatore me lo lascia scrivere ma non è detto e quindi a runtime potrebbe esserci un class cast exception b uguale a null posso sempre assegnare null a qualunque riferimento allora abbiamo qui una classe è un'interfaccia scusate che si chiama verifier che è un unico metodo test a cui passiamo una stringa che si dice vero o falso e abbiamo il metodo countif a cui passiamo un array di stringhe le parole e un oggetto verifier il nostro metodo cosa fa? per tutte le stringhe quindi for s in words fa p.test di s quindi passa s al metodo test dell'oggetto verificatore e se il metodo restituisce true incrementa il conteggio quindi sostanzialmente conta il numero di stringhe in questo array per cui il verificatore ha detto che va bene cioè ha restituito true se noi abbiamo questa serie di valori all'interno del nostro array il metodo countif può essere chiamato passando passando come primo parametro l'array come secondo parametro qui ci sono tutta una serie di espressioni lambda o method reference quale restituisce il conteggio delle parole che sono lunghe almeno tre caratteri allora questa e questa non sono lambda function quindi sostanzialmente queste prime due sono delle scritture sintaticamente errate quindi non riusciamo neanche a compilarle le altre sintaticamente sono corrette s freccia s freccia le ultime due string due punti due punti lente maggiore di due questa è un'altra scrittura che è sintaticamente errata quindi se io voglio chiamare lente e confrontare il risultato con due lo posso fare con una lambda il metodo reference non può essere utilizzato in questo modo prendendo il risultato e facendo qualche altra operazione il metodo reference restituisce il risultato e basta idem per l'ultima scrittura questa è una scrittura sostanzialmente errata sintaticamente quindi il compilatore già ce lo segnala quindi a questo punto dobbiamo andare a scegliere tra queste due ovviamente quelle che hanno almeno tre caratteri quindi da tre in avanti e questa con la lunghezza maggiore di due ok direi che con questo abbiamo visto tutte le domande spero di aver chiarito un po' di dubbio dato delle conferme a chi aveva risposto correttamente se ci sono osservazioni su queste domande rispondo volentieri se no aspetto un paio di minuti passiamo a parlare di eccezioni allora sulle Lambda Function ci ritorniamo poi parlando di di tipi generici quindi vedremo un sacco di esempi la domanda molto semplice che vediamo qua è la differenza tra la freccia e due punti due punti lo possiamo spiegare su questo esempio anzi facciamo così andiamo a creare un altro esempio qua così ricopiamo il testo new class domanda 10 allora rispondo a questa domanda e poi torno sulle altre domande che mi avete scritto allora vado a prendere questo e lo copio qua tra l'altro c'è un errore nel testo l'avevo visto vado a mettere questo metodo qua sotto qui manca una gaffa e poi vado a scrivere questa dopo di che vado a prendere tutte le scritture che abbiamo messo qua e vediamo gli output del nostro compilatore allora ve li metto separati così almeno li vediamo meglio nel primo caso s.length maggiore di 2 è ovvio che s che cos'è nel secondo caso di nuovo e quindi questi due sostanzialmente sono errati nel senso che sintatticamente il compilatore non riesce a capire cosa sono questi anche sono errati nel senso che questo è un method reference e io non posso andare a prendere il method reference in quel modo e quindi anche questo non può funzionare questi questi sono corretti e che cosa fanno sostanzialmente quando io ho una funzione lambda la funzione lambda equivale a definire una classe interna anonima quindi questa scrittura equivale a vi ricopio il primo pezzo new qui dentro il count if vedete che si aspetta un oggetto verifier quindi new verifier aperta chiusa aperta chiusa graffa dentro verifier io devo andare a mettere l'implementazione che è questa quindi public boolean test e qui farò un return di s.length maggiore di 2 quindi in pratica che cosa succede che rispetto alla nostra lambda function vedete che abbiamo due pezzi le variabili o i parametri e questa che è l'espressione nella nostra classe interna anonima qui dentro che cosa abbiamo abbiamo sostanzialmente qui il parametro e qui sotto esattamente qui su questi caratteri qua la nostra espressione quindi vedete che il compilatore prende questi due parti e sostanzialmente me le mette dentro tutto questo blocco che dichiara la classe interna anonima ok ok quindi questo è il funzionamento delle lambda function nel caso in cui io abbia una lambda function che sostanzialmente ve lo scrivo qua è della forma parametro freccia oggetto punto metodo a cui passo il parametro in realtà questa è una delle tante possibilità ok allora questo lo posso scrivere come oggetto due punti due punti metodo e quindi è una versione ancora più compatta per alcuni casi particolari in cui il mio cioè l'espressione che metto dentro la lambda function è soltanto una chiamata a un metodo ovviamente in questo caso specifico noi non abbiamo dei metodi dentro dentro string che ci restituiscono un valore booleano che equivalga al contare le le lettere ok quindi in questo caso length non possiamo utilizzarlo non possiamo utilizzarlo perché sostanzialmente noi abbiamo bisogno di un valore booleano e basta che decida una soglia se volete quello che possiamo fare è andare a definire un'altra variante conta se più lungo di qui andiamo a mettere non un verificatore ma andiamo a mettere un interface trova lunghezza che è un metodo che mi restituisce un int lunghezza stringa s quindi qui andiamo a mettere un trova lunghezza e poi andiamo a mettere un int che è la soglia a questo punto if p punto lunghezza di s è maggiore della soglia allora count più e quindi questa è un'altra variante a questo punto noi effettivamente possiamo andare a utilizzare conta se più lungo di gli passiamo nel nostro stesso array di elementi di stringa gli passiamo string due punti due punti length e poi gli passiamo la soglia che abbiamo detto che è 2 questo sostanzialmente è la versione più breve di s freccia s punto length equivalente a quindi quando ho delle lambda function di questo tipo le posso andare a scrivere come method reference allora domanda sulle interfacce i metodi delle interfacce normalmente sono tutti scritti così cioè hanno un tipo di ritorno il nome i parametri e soprattutto hanno il punto e virgola ok oltre a questi ci sono anche i metodi default e i metodi statici però non entro qua nei dettagli perché se no il discorso si fa lungo ok ne ho parlato alla fine della lezione sull'ereditarietà quindi rivedete quella parte poi eventualmente se ci sono domande visto che li rivedremo abbondantemente parlando di tipi generici magari ritorniamo sull'argomento in quell'occasione altre domande aspettate che riguardo sulla sulla chat nella prima domanda perché la prima è errata allora torniamo qua su la prima domanda è questa la risposta errata è questa perché title sostanzialmente è privato questa invece è corretta quindi non so bene se ho capito la domanda questa domanda più uguale a B ovviamente è corretta è un upcast da libro a pubblicazione che è corretta allora la prima è corretta perché B è una sottoclasse di publication quindi qui sto scrivendo P riferimento di tipo publication uguale a B è un upcast tutti i libri sono anche pubblicazioni ok perfetto c'era anche una domanda su due punti due punti però credo forse di aver risposto nel trattento il due punti due punti nello specifico torno un attimo qui così lo vediamo sul codice io non posso andare a scrivere il due punti due punti perché qui non posso combinare la sintassi java sostanzialmente mi impedisce di combinare una chiamata di tipo method reference con un utilizzo del suo risultato ad esempio confrontandolo quindi questo è proprio sinteticamente corretto o metto semplicemente string.lent allora è una creazione di una classe interna anonima che chiama quel metodo oppure metto una lambda come abbiamo scritto prima ok a questo punto spero di aver chiarito un po' di dubbi su la l'ereditarietà in generale l'esercizio e poi l'estensione che vi pubblicheremo a fine settimana dovrebbero darvi modo di andare a esplorare a capire come funziona vi invito a ragionare su varie alternative per la soluzione perché come qualunque attività progettuale anche la programmazione permette di avere tantissime soluzioni alternative tante sono sostanzialmente equivalenti perché magari variano semplicemente in termini di sintassi o altro altre invece hanno vantaggi o svantaggi netti ed evidenti ogni due settimane vi pubblichiamo la estensione del laboratorio sostanzialmente perché i laboratori che avevamo preparato pensando che non ci fosse nessuna pandemia erano cinque perché perché sostanzialmente in laboratorio avevamo dovuto dividere in squadre e quindi sareste andati in laboratorio una settimana sì e una settimana no visto che siete a casa e quindi potete lavorare tutti ognuno a casa propria non c'è più il problema dei limiti di capienza dei laboratori e quindi rispetto ai cinque laboratori che avevamo utilizzato l'anno scorso ne aggiungiamo uno ogni due settimane che è un'estensione del laboratorio che avete svolto nella settimana precedente i laboratori standard sono esattamente analoghi a quelli che erano statistizzati l'anno scorso e anche con qualche variazione degli anni precedenti le estensioni sono sostanzialmente nuove perché almeno vi diamo ogni settimana un lavoro in più da poter svolgere a questo punto oggi pomeriggio vi rimanderò i test eseguiti sull'estensione dell'esercizio precedente quello dell'università allora per le modalità d'esame a giugno non si sa ancora nulla di certo diciamo che più passa il tempo più è probabile che gli esami vengano fatti a distanza quindi ci sarà comunque una parte di programmazione alla quale si aggiungerà una parte di domande online probabilmente un po' più estesa rispetto a quella che era prevista all'inizio perché per la parte di programmazione è sostanzialmente abbastanza difficile andare a controllare quello che fate quindi ci sarà semplicemente la correttezza appena c'è qualcosa di definito spero metà maggio vi spiego che cosa come verrà fatto l'esame il problema è che in questo momento non lo so neanche io ok eccezioni vediamo come possiamo andare a utilizzare le eccezioni allora domanda questa settimana riceverete i test effettuati sul nuovo laboratorio sì sostanzialmente venerdì dopo la presentazione della soluzione del laboratorio diciamo quello di simulazione idraulica vi verranno inviati i test per cui avrete anche i test di quelli oggi pomeriggio invece avrete i test sulla estensione del primo laboratorio quindi quello sull'università se non l'avete fatto l'estensione non importa riceverete i test comunque che falliranno quindi avrete un'occasione per poterci lavorare ripeto i laboratori non sono obbligatori non sono valutati sono a disposizione perché possiate fare esercizio che è l'unico modo per imparare a scrivere programmi ragionevolmente allora io non so che file avete scaricato perché in realtà ci sono diversi test quindi ci sono i test sul primo laboratorio quello di base che è quello che vi è arrivato via mail con il link i test di oggi che sono una versione estesa perché per l'appunto devono testare alcune caratteristiche in più e poi ogni volta ci saranno degli insimi di test diversi quindi i test sull'estensione del laboratorio 1 quello di università avranno oltre ai test che avete già eseguito di cui avete ricevuto l'esito altri test aggiuntivi che vanno a verificare i requisiti estesi allora andiamo a prendere il nostro codice di la soluzione dell'università c'è una piccola variante qui invece di andare a accedere direttamente ai attributi ho creato un metodo find student che sostanzialmente va a cercare uno studente all'interno di un array ma per il resto la soluzione è quella che avete visto e che è pubblicata e quindi potete rivederla allora il punto è immaginiamo di trovarci in questo metodo find student con l'identificatore e scoprire che quell'identificatore non è corretto non era previsto per l'esercizio perché non avevamo ancora parlato di eccezioni di gestione degli errori però in generale è buona norma andare a verificare i valori dei parametri come dicevo prima in modo da non generare un'eccezione quando i parametri sono errati per cui una null pointer exception quindi intendo un errore grave di esecuzione per cui qui quello che potremmo fare è sostanzialmente andare a verificare se id è minore di initial id oppure se id è maggiore di la variabile max student allora il valore è errato un altro controllo che possiamo fare è qui se usiamo un id di uno studente che non è ancora stato aggiunto all'interno del nostro array di studenti l'elemento sarà nullo per cui dopo aver recuperato lo studente se s è uguale a null quindi abbiamo uno studente inesistente anche qui lo studente non esiste a questo punto che cosa facciamo restituiamo null come facciamo a comunicare a chi sta utilizzando questo codice che non funziona che c'è qualche errore una possibilità è restituire null e a questo punto si ha il metodo student ovviamente qui non posso restituire to string perché qui dopo aver chiamato il metodo dovrei andare a verificare return null in questo caso scusatemi e return null in quest'altro quindi in caso di errore restituisco null ovviamente quando vado a chiamare un metodo che mi può restituire un valore speciale che rappresenta un errore devo andare a fare un test if s è uguale a null allora cosa faccio qua return che so studente non presente in realtà non so se lo studente non è presente se il dd non è corretto eccetera perché ho esclusivamente un valore speciale null in questo caso restituito dal metodo e poi non ho informazioni ulteriori chi riceve il risultato di questo metodo student a sua volta riceverà comunque una stringa quella stringa che cosa significa se contiene il studente non presente vuol dire che è un errore altrimenti quindi a sua volta dovrà fare un test per verificare il contenuto del risultato allora domanda nel testo avete nel vostro laboratorio avete fatto tutti questi controlli allora va bene il problema è che se nella traccia non c'è scritto allora in questo caso specifico non succede nulla perché i test non verificavano questo caso però sarebbe bene in generale quando c'è un errore seguire quelle che sono le indicazioni presenti nella traccia non erano indicate perché volevamo lasciare perdere qualunque gestione degli errori in realtà quando stiamo pensando a degli esami la modalità è un po' più semplificata per cui se non vi si dice esplicitamente nell'esame di andare a verificare degli errori voi potete anche ignorare il problema non avete ore e ore di tempo per cui se vi concentrate soltanto su quello necessario dovreste riuscire a farlo se andate ad aggiungere tanti controlli come questi il tempo si riduce resta comunque il fatto che se voi scrivete il codice vero che dovrà essere utilizzato in produzione quindi non semplicemente per un esame questi controlli dovete farli perché altrimenti rischiate che il vostro codice generi dei crash null pointer exception è la cosa più comune quando in realtà dovrebbe semplicemente segnalare che il valore non è corretto quindi attenzione alle modalità dell'esame in cui dovete gestire soltanto gli errori che vi vengono detti perché altrimenti non avete tempo rispetto a scrivere del codice che vada in produzione in cui effettivamente è importante fare questo tipo di controlli a questo punto noi possiamo restituire null qui possiamo restituire una stringa particolare possiamo restituire null l'idea è che se non abbiamo altri meccanismi l'unico sistema che possiamo avere è restituire un valore speciale che significa che c'è qualcosa che è andato storto l'alternativa come vi dicevo è utilizzare le eccezioni ed è il modo in cui in java normalmente andiamo a gestire questo tipo di problemi che cos'è un'eccezione l'eccezione sostanzialmente è una classe che deriva da una classe di base che si chiama trouble che è in grado di racchiudere delle informazioni su la causa dell'errore e la presenza stessa dell'eccezione rappresenta il fatto che ci sia un problema quindi invece di andare a restituire un errore noi andiamo a lanciare perché dobbiamo gestire la differenza tra un valore corretto che viene restituto da una funzione rispetto a l'eccezione un'anomalia quindi sono due canali paralleli non posso restituire un'eccezione l'eccezione viene lanciata restituisco il valore o lancio l'eccezione queste sono le due possibilità che ho nei miei metodi a questo punto abbiamo detto che un'eccezione è un qualcosa che è sostanzialmente una classe quindi vado a dichiarare una classe la chiamiamo university exception è utile avere tante classi di eccezione perché io posso poi andare a intercettare un tipo piuttosto che l'altro di eccezioni per cui se mi interessano soltanto le eccezioni generate dalle classi dell'università intercetto questo tipo di classi quindi university exception e qui vado a mettere exception che è la classe di base che di solito utilizziamo per andare a creare nostre nuove eccezioni la classe university exception potrebbe essere così semplice oppure potrebbe avere un costruttore public university exception di solito associamo un messaggio descrittivo della causa dell'eccezione alle eccezioni quindi messaggio descrittivo lo possiamo mettere come attributo qua o possiamo semplicemente utilizzare il costruttore della classe exception e passargli il messaggio descrittivo una volta che ho questo c'è un metodo che si chiama get message della classe exception che mi restituisce questa stringa quindi io una volta che ho l'eccezione posso andare a capire cosa è successo e in pratica ho la possibilità di operare in maniera diversa a seconda di cos'è successo quindi torniamo alla nostra università a questo punto l'alternativa invece di andare a fare un return null e fare un throw new university exception e qui vado a passare una descrizione invalid student id e vado anche a dire qual è l'id non valido a questo punto java prevede che quando io lancio un'eccezione lo debba segnalare perché perché in questo modo i metodi che chiamano questo metodo che genera l'eccezione sanno che c'è un'eccezione e quindi possono gestirla se io vedo un metodo che si chiama find student e basta non mi posso immaginare che lancio un'eccezione per cui la convenzione quando c'è un'eccezione devo fare qualcosa normalmente la cosa più semplice è semplicemente dire che questo metodo può lanciare una university exception quindi che cosa faccio in presenza di una condizione di errore lancio una nuova eccezione e dichiaro sostanzialmente che questo metodo può lanciare quell'eccezione può attenzione nel senso che non è detto che per forza il metodo lancia l'eccezione il metodo lancia l'eccezione soltanto nel caso in cui ci sia una situazione anomala ad esempio l'identificatore non sia corretto altrimenti normalmente restituisce il riferimento allo studente stessa cosa facciamo qui sotto quando lo studente non esiste missing student id ok quindi in questo modo ho definito come gestisco le eccezioni in un caso e nell'altro quindi verifico la condizione anomala e lancio l'eccezione verifico un'altra condizione anomala e lancio l'eccezione ok cosa serve super allora tornando qua super passa la stringa al costruttore della classe exception quindi exception ha un costruttore che riceve una stringa che è il messaggio associato all'eccezione quindi io semplicemente passo la stringa che ho ricevuto io come costruttore al costruttore di exception visto che c'è già dentro i messaggi dentro exception sotto questo invece di andare a definire io qua un attributo specifico quindi questa è la situazione tipica in cui io vado a fare la gestione di eccezioni a questo punto il fatto che questo metodo possa lanciare un'eccezione mi dice che chiunque chiami questo metodo deve tenere conto del fatto che find student può lanciare un'eccezione in particolari casi per cui ad esempio il metodo student che chiama find student per trovarlo cosa fa deve tenere conto che lui può lanciare un'eccezione a questo punto questo codice qua io lo potrei anche togliere e devo decidere in presenza di un metodo che lancia un'eccezione devo in qualche modo gestirla come la posso gestire la posso gestire in due modi lo vediamo qua nei due suggerimenti che ci vengono dati da da Eclipse posso dire all'interno di questo metodo io non sono in grado di gestire l'eccezione non saprei cosa fare potrei stampare un messaggio d'errore ma non è molto significativo per cui rilancio l'eccezione a chi mi ha chiamato quindi un metodo che io ho chiamato mi dà un'eccezione io metodo student non sono in grado di rispondere in maniera adeguata a questa eccezione lo passo a chi mi ha chiamato il quale spero in qualche modo sia in grado poi di gestirlo per cui qui faccio un'altra dichiarazione throws anche lui university exception scusate university exception a questo punto vedete che la gestione dell'errore che io avrei dovuto fare qua specificatamente per fine student non la faccio semplicemente passo a chi mi chiama l'eccezione chi mi chiama deciderà se gestire l'eccezione oppure a sua volta passarla a chi l'ha chiamato e via di questo passo ovviamente tutti i punti in cui viene chiamato il metodo fine student io devo fare una cosa del genere qui qui sotto fine student quindi devo lanciare l'eccezione la propago qui sotto ancora anche qui ho un throws di university exception quindi tutti i punti in cui chiamo fine student vado a dichiarare all'interno della classe university io non sono in grado di gestire questa eccezione però la segnalo a chi mi ha chiamato ovviamente chi mi ha chiamato sarà probabilmente il main a questo punto nel main quando chiamo student mi dice guarda che c'è un'eccezione di tipo university exception non gestita quindi devo fare la gestione dell'eccezione cosa posso fare posso dichiarare che anche main lancia university exception e quindi propago a chi mi ha chiamato cosa succede in questo caso succede che se viene lanciata un'eccezione il main lancia l'eccezione a sua volta e quindi non c'è più nessuno sopra il main c'è sostanzialmente la macchina virtuale che prende l'eccezione e termina l'esecuzione del programma per cui normalmente nel main non faccio questo a meno che non voglia scrivere del codice alla veloce senza dover occuparmi degli errori quindi questo di solito non lo faccio perché in presenza di un errore il programma termina esattamente come succede quando c'è un null pointer exception il mio programma termina senza nessuna possibilità di recupero quindi quello che faccio ad esempio in questo caso è di andare a racchiudere questa chiamata in un blocco try catch university exception che in pratica va a intercettare l'eccezione e decide cosa fare qui sotto quindi cosa succede in fase in fase di esecuzione se noi passiamo un valore corretto s1 benissimo non succede nulla qui viene restituto lo studente e le eccezioni non le vediamo se però invece di chiamare il metodo student con un valore corretto gli passo 0 che è un identificatore non valido all'interno del mio metodo lo recupero qua sopra all'interno del metodo find student scopro che il mio identificatore è minore dell'identificatore minimo valido e quindi lancio un'eccezione lanciare un'eccezione vuol dire che l'eccezione blocca l'esecuzione del mio metodo quindi è come se qui ci fosse una specie di return però non è un return è l'altra possibilità quindi il metodo o restituisce un valore oppure lancia un'eccezione in entrambi i casi l'esecuzione ferma lì si ferma lì e passo al chiamante il chiamante cos'è è questo metodo student se avessi un return andrei qui all'istruzione successiva quando ho un'eccezione invece cosa succede se non c'è nessun try catch ma c'è semplicemente un throws exception l'eccezione viene passata ancora sopra quindi restituisco e vado torno al chiamante questo vuol dire che se l'eccezione viene lanciata da find student il codice successivo non verrà mai eseguito e quindi salgo ancora di un livello e vado alla mia applicazione e arrivo qua se c'è un'eccezione qui dentro dentro student l'esecuzione termina lì quindi il s1 più uguale sull's1 uguale più non verrà mai eseguito termina l'esecuzione da qui e salto direttamente dentro blocco try catch dentro blocco catch scusate quindi nel mio blocco catch andrò a fare qualche operazione ad esempio posso andare a dire system.r.println errore nel recuperare lo studente due punti posso fare e.getmessage getmessage sostanzialmente è un metodo definito vediamo qua all'interno della classe exception che è una classe da cui abbiamo derivato l'university exception che restituisce quella stringa che noi abbiamo passato al costruttore con super quindi in questo modo memorizziamo dentro l'accezione una stringa che è la descrizione di quello che è avvenuto e poi proseguiamo tranquillamente a questo punto abbiamo due strategie per gestire le eccezioni avete visto una è se ho un metodo particolare student che può generare un'eccezione lo racchiudo all'interno di un blocco try gli aggancio il catch e il catch verrà eseguito nel caso in cui venga generata un'eccezione in pratica è come se io saltassi direttamente da questo punto quando faccio throw direttamente dentro il mio blocco catch tutto quello che c'è in mezzo viene saltato a pie pari oppure se non metto il blocco try catch posso mettere un throws e questo significa l'eccezione verrà propagata verso l'altro attenzione che volendo posso fare un misto per cui ad esempio questa eccezione qua io la intercetto con il catch ma ovviamente ho tutta una serie di chiamate sotto ad esempio register eccetera che potrei decidere di non gestire e quindi andare a mettere un throws university exception quindi se io mi trovo dentro un blocco try quando sto generando l'eccezione salto al catch ovviamente a patto che il tipo dell'eccezione che specifico qua nel catch sia uguale al tipo dell'eccezione che viene generata perché se ho un altro tipo di eccezione questa non viene gestita qua quindi in pratica cosa succede? proviamo a eseguire il nostro main vedete che errore nel recuperare lo studente 10.000 ed è quello che viene stampato qua poi qui a un certo punto c'è un inval di student id di 10.000 che probabilmente è un errore probabilmente l'implementazione è errata non lo so allora allora vado qui quindi qui ho chiamato S1 poi ho chiamato di university in cui ho passato un certo studente in realtà id non deve essere max students ma id maggiore di scusatemi initial id quindi qui ho sbagliato la condizione di controllo quindi il minimo è initial id il massimo è initial id più max student ok quindi a questo punto se io torno alla mia applicazione di esempio e la eseguo ok questo funziona tutto con il messaggio che veniva dato qua relativo al fatto che qui quando cerco di accedere allo studente 0 non funziona allora domanda se ci sono altre istruzioni nel catch scusate nel try dopo quella che lancia l'eccezione viene eseguita no si salta direttamente da qui sotto per cui se io qua vi metto un system.out.println questa stampa non verrà mai eseguita perché 0 causa un'eccezione quindi se lancio la mia applicazione quindi se lancio la mia applicazione vedete che viene stampato il messaggio d'errore che è quello che qui quindi errore nel recuperare lo studente ma questa stampa qui per l'appunto non viene mai eseguita quindi si salta direttamente dal punto in cui viene lanciato il throw direttamente al catch quindi tutto quello che è intermedio non si fa questo è il motivo per cui torno un attimo alla classe university di solito i controlli che possono lanciare eccezioni vengono fatti all'inizio perché se li faccio in fondo intanto già esegui tutto il codice e quindi non non riesco a fare nulla allora domanda le eccezioni vengono usate per gestire gli errori o vengono usate per altri scopi principalmente per gestire errori quindi se io ho un errore vuol dire che devo andare a mettere un blocco tra i catch e quindi devo poi andare a fare tutta un'altra serie di controlli mettere i blocchi tra i catch o mettere i throws ok ci sono alcuni usi un po' diversi ad esempio JUnit quando deve segnalare il fatto che un metodo di assert è fallito che cosa fa? lancia un'eccezione è molto utile perché permette di interrompere il metodo di test esattamente in quel punto e non eseguire i test successivi le assezioni successive allora domanda se il main non gestisce l'eccezione questa viene stampata ugualmente sì nel senso che torniamo al nostro esempio se io qui all'esterno del blocco tra i catch facessi un un po' gli student di zero cosa succede? succede che sostanzialmente il compiler la java virtual machine mi stampa questa parte e l'esecuzione non procede oltre attenzione mi fermo qua perché c'è l'eccezione non essendo dentro un blocco tra i catch viene propagata la intercetta la java virtual machine la quale stampa il messaggio e poi tutto quello che è lo stack di chiamata l'eccezione lanciata dal main e mi immagino di aver risposto anche a questa domanda domanda il throw è specifico per eccezioni o può essere usato per lanciare un oggetto di tipo diverso no sostanzialmente il throw serve esclusivamente per lanciare eccezioni tra l'altro io non posso lanciare un oggetto qualunque ma devo lanciare un oggetto che direttamente o indirettamente derivi da una classe speciale che si chiama throwable da cui ovviamente exception la classe che abbiamo utilizzato deriva domanda questo vuol dire che quando c'è un'eccezione o lancio un'eccezione fino al main devo inserire un try catch nel punto esattamente quindi quando io ho una serie di chiamate in un certo punto o metto un throw se quindi quel metodo lo passa sopra oppure metto un blocco try catch e quindi fermo la propagazione dell'eccezione e la gestisco se invece come abbiamo fatto anche in questo caso anche il main ha un throws cosa succede che l'eccezione viene ancora rilanciata dal main e viene bloccata dalla Java Virtual Machine e sostanzialmente mi blocca a questo punto ok vi chiedo due minuti facciamo due minuti di pausa così prendo un bicchiere d'acqua e poi proseguiamo e vediamo gli altri aspetti di dettaglio ok domanda se l'eccezione non viene gestita dentro al metodo ma solo passata al main il quale non la gestisce cosa succede sostanzialmente è quello che abbiamo visto qua quindi in pratica se questo metodo lancia l'eccezione e la sua chiamata non si trova dentro un blocco try catch ma direttamente dentro il main il main cosa fa lancia l'eccezione e il risultato è quello che il programma viene sostanzialmente bloccato in quel punto la Virtual Machine stampa l'eccezione con tutto stack di chiamata quindi so esattamente qual è stata l'origine dell'eccezione per cui è originata da una chiamata fatta alla riga 25 quella che vediamo qua sotto e ha chiamato la riga scusate il metodo student alla riga 82 il quale ha chiamato il metodo fine student e alla riga 92 di university punto java questa c'è stata un'eccezione quindi riesco a ricostruire tutta l'origine della del lancio dell'eccezione se non avessimo gestito dentro se non avessimo gestito dentro il metodo senza lanciare un'eccezione non succede nulla quindi se lancio l'eccezione lo gestisco altrimenti in pratica quell'anomalia di non valido non è rilevabile l'idea è se lancio l'eccezione vuol dire che c'è qualcosa che non va altrimenti non succede nulla e il mio programma prosegue tranquillamente quindi le eccezioni sono il meccanismo che viene utilizzato per andare a gestire tutte le anomalie in questo caso abbiamo visto che possiamo intercettare con un blocco tra i catch oppure possiamo propagarle andando a mettere una dichiarazione trousse ovviamente la dichiarazione trousse può risalire quanto vogliamo quindi un grosso vantaggio delle eccezioni è per l'appunto il fatto che il punto in cui rilevo il problema nel nostro caso specifico il metodo find student dell'university è il punto in cui vado a gestirla in qualche modo ad esempio stampando un messaggio d'errore sono diversi e possono essere anche molto distanti quindi questo è uno dei grossi vantaggi delle eccezioni a questo punto non completo però ragionevolmente dovrebbero esserci eccezioni anche per andare a verificare il codice del corso piuttosto che altri aspetti quindi ad esempio se cerco di registrare due volte lo studente per lo stesso corso dovrebbe darmi un'eccezione quindi ci sono un sacco di possibili casi da verificare che mi permettono di andare a controllare tutte le anomalie e generare un'eccezione quando è necessario ora è ovvio che se il metodo questo qui student ma poi anche register e anche gli altri che sostanzialmente chiamano find student e quindi devono in qualche modo propagare l'eccezione se non la devono se non la vogliono gestire direttamente loro possono lanciare delle eccezioni per cui o si fa come in questo caso che il main in pratica fa un throws tranne questo primo caso che abbiamo identificato oppure li devo intercettare in qualche modo e questo va a impattare ovviamente il modo in cui io vado a scrivere i test perché se vado a prendere la classe di test quella che avete visto che vi è stata mandata io ho una serie di problemi tutte le volte che ho uno studente quindi quello che posso fare qui e nei miei metodi di test è andare a dichiarare che throws university exception in tutti i casi in cui può generarsi un'eccezione di tipo university exception university exception ovviamente non essendo una classe definita in quel package deve essere importata a questo punto il nostro test può funzionare in effetti se io lancio il test ho la barra verde quindi tutto bene il punto è quando io ho una possibile eccezione devo verificare che se i dati gli input sono corretti come in questo caso nessuna eccezione venga generata ma devo anche verificare che se ad esempio passo un identificatore di studente errato mi venga generata un'eccezione quindi devo verificare sia il caso normale in assenza di eccezioni che è quanto fanno già i test in questo caso sia andare a verificare anche il caso in cui effettivamente l'eccezione sia generata e verificare che se ci sono le condizioni venga prodotta un'eccezione per cui ad esempio tornando qua sugli studenti io potrei andare a definire un altro test test students errati e andare a ad esempio fare un poli punto student di zero ora se io faccio così cosa succede succede che ho un errore vi ricordate quando avevamo parlato di JUnit la prima volta e io vi ho detto che ci sono errori e fallimenti i fallimenti sono legati a istruzioni o comunque chiamate ai metodi assert la cui condizione non è verificata non è il caso in questa implementazione perché tutto è corretto gli errori invece sono legati ad altre eccezioni ecco university exception è un'altra eccezione è un'eccezione che viene generata e io non mi aspettavo che fosse generata per cui il metodo testi unenterrati mi dà un errore quindi cosa devo fare io qui devo andare a dire sì è possibile che venga generata un'eccezione ma in questo caso io me l'aspetto quindi qui posso mettere expected uguale university exception punto class a questo punto sto dicendo guarda che in questo test io mi aspetto un'eccezione di tipo university exception perché effettivamente ho utilizzato zero quindi a questo punto se faccio run va tutto bene perché in quel test l'eccezione era attesa e quindi perfetto mi aspettavo un'eccezione e di fatto l'ho ottenuta è ovvio che se invece non viene generata l'eccezione il test fallisce mi aspettavo un'eccezione quindi siamo in grado di verificare che in questo metodo qui sopra quando i dati in input sono corretti non viene generata alcuna eccezione mentre invece qui sotto quando passa un identificatore non valido di fatto vengano generate venga generata un'eccezione quindi in presenza di eccezioni normalmente i test da scrivere sono il doppio adesso non esattamente il doppio perché dipende un po' dalle condizioni che voglio verificare però devo aggiungere un test per ogni condizione che mi può generare un'eccezione qui lo 0 è 1 ma io potrei anche andare a definire un altro test test errati 2 vado a generare un vado a creare uno studente vado a recuperare lo studente S1 che ragionevolmente sarà corretto vado a recuperare lo studente S1 più 1 che probabilmente non esiste e quindi è nullo e quindi anche in questo caso mi aspetto un'eccezione quindi lancio il test di nuovo va tutto bene perché qui effettivamente come mi aspettavo è stata lanciata un'eccezione vi faccio notare che questa scrittura espette di University Exception punto class equivale sostanzialmente a scrivere in maniera un pochettino più prolissa non questo ma un qualcosa di questo tipo quindi vado a mettere un try catch quindi se l'eccezione viene generata ok era attesa se volete posso fare assert true di true per essere esplicito ok quindi ho una verifica ed è andata a buon fine mentre invece se l'eccezione non viene generata posso dire file scusate fail eccezione attesa ma non generata perché funziona questo perché sostanzialmente se ho un'eccezione lanciata in questo metodo salto direttamente al blocco catch se nessuna eccezione viene generata qui proseguo e quindi eseguo quest'istruzione successiva che mi fa fallire il test ora è ovvio che tra questa scrittura lunga e direi non perfettamente intuitiva uno deve ragionare su come funzionano le eccezioni per capire che fail viene eseguito quando non c'è un'eccezione oppure questa scrittura ecco la prima che abbiamo fatto quindi quella con expected uguale è decisamente più compatta e tutto sommato più facile da leggere per cui quando abbiamo a che fare con le eccezioni è importante ricordarsi che è necessario andare a sempre testare sia il caso nominale in cui nessuna eccezione viene generata sia il caso in cui di fatto le eccezioni viene generata quindi la condizione che portano a generare l'eccezione allora perché perché è generata perché si scrive punto class è complicato dovrei spiegarvi un attimo che cos'è la reflection ma sostanzialmente l'idea è che vi vado a creare una velocemente un piccolo esempio così nelle prove new class esempio classe eccezioni allora ho dimenticato il main in java esiste una classe speciale che si chiama class class che cos'è è scusate il gioco di parole ma è così è una classe che rappresenta una classe come faccio ad avere le informazioni su una particolare classe ad esempio posso dire che c è uguale a string punto classe quindi quando io uso il nome di una classe punto class sto facendo riferimento a un oggetto speciale di tipo class che contiene una descrizione della stessa classe per cui ad esempio system.out punto println nome della classe e posso fare più c punto get scusate name per cui se eseguo questo il risultato ovviamente è java.lang.string quindi mi dà il nome complessivo completo della classe a questo punto io posso anche utilizzare c punto il metodo is instance of di ad esempio una stringa quindi una volta che io ho un oggetto di tipo class posso andare a verificare che un oggetto sia un'istanza di quella classe qui in questo caso se faccio una stampa distanza di string distanza a questo punto è ovvio che quando junit intercetta un'eccezione io gli passo un oggetto di questo tipo in realtà university exception punto class o qualunque altro tipo e a questo punto quello che viene fatto da junit è andare a intercettare l'eccezione e poi andare a vedere se quell'eccezione ha la stessa classe quindi è un'istanza de la classe che io gli ho detto di intercettare ok questo è giusto l'inizio di quello che è tutta una parte di java che si chiama reflection ovvero un insieme di classi e metodi che permettono di andare a analizzare in maniera riflessiva un programma quindi un programma può avere informazioni su se stesso sulle proprie classi delle classi posso avere i metodi eccetera ok quindi potete provare a sperimentare con questa classe e vedere che cosa c'è se avremo tempo verso la fine del corso vi darò qualche piccolo cenno sui meccanismi principali di reflection tenete conto che però nella programmazione normale a parte utilizzare punto class e class non si fa normalmente cioè devo entrare in quel dettaglio se ho bisogno di fare delle operazioni molto complicate nella programmazione normale nel 99,9% dei casi la reflection si limita a utilizzare la classe class e non altro torniamo al nostro main allora a questo punto abbiamo visto che io posso utilizzare le eccezioni per andare a segnalare qualcosa queste eccezioni devono essere generate quando verifico la situazione dopodiché i metodi intermedi possono mettere un blocco try e quindi bloccare l'eccezione oppure rinviare l'eccezione al chiamante andando a mettere la dichiarazione trolls tutto sommato però non tutte le eccezioni si comportano in questo modo abbiamo visto un sacco di volte eseguendo i nostri programmi che ad esempio null pointer exception è un'eccezione che viene generata molto spesso ma non è mai stata segnalata cioè il compilatore non ci ha mai detto attenzione devi andare a mettere un trolls null pointer exception oppure devi andare a mettere un catch perché perché sostanzialmente null pointer exception è una di quelle classi che sono cosiddette eccezioni di tipo unchecked vi richiamo un attimo eccolo qua una una delle slide sulle eccezioni in generale quando parliamo di di eccezioni vi accennavo che la classe di base di tutte le eccezioni si chiama trouwable ovvero un oggetto che può essere lanciato quindi può essere argomento dell'operatore throw trouwable ha due sottoclassi principali che sono error ed exception e poi abbiamo le runtime exception che sono una sottoclasse di exception qual è lo scopo di questi gruppi di classi e delle loro classi derivate sostanzialmente abbiamo gli errori quando viene generata un errore di gestione della memoria ad esempio la memoria termina oppure ho un un errore in termini di esaurimento dello stack quindi lo stack overflow per quanto riguarda le runtime exception le runtime exception rappresentano tutti gli errori di programmazione quindi ad esempio il caso in cui io abbia null pointer exception class cast exception quando ho index out of bound exception quindi tutti gli errori che la virtual machine può verificare durante l'esecuzione di un programma e sono tutte quelle micro verifiche che fa sul fatto che i puntatori non siano nulli che i cast siano corretti che l'indice all'interno di un array sia nei limiti eccetera tutti questi tipi di errori ricadono sotto la categoria delle runtime exception ovvero sono delle sottoclassi di runtime exception e poi ci sono tutte le altre classi che derivano da exception e che invece rappresentano i tipici errori come quella che abbiamo generato noi university exception quindi university exception è un tipico caso di eccezione che mi va a descrivere delle anomalie specifiche all'interno di un programma e permette di essere intercettata qual è il vantaggio di avere delle classi diverse che io posso intercettare separatamente diversi tipi di eccezioni posso intercettare una university exception posso intercettare una hydraulics exception eccetera eccetera e gestirle ovviamente in maniera separata come faccio a gestire il tutto in maniera separata beh ad esempio qui io potrei mettere un altro catch di exception o di una qualunque altra eccezione e gestirlo separatamente quindi io posso mettere più blocchi catch in coda in coda a un try per intercettare e gestire in maniera differenziata eccezioni di classi diverse ovviamente ovviamente oltre a queste eccezioni che quindi sono quelle che sono specifiche per un'applicazione devo tenere conto che posso avere degli errori o posso avere delle runtime exception il punto è che gli errori e le runtime exception io non li posso prevedere non vado a scrivere un if che verifica che il mio id sia in un certo intervallo potenzialmente se pensiamo alla runtime scusate alla null pointer exception io potrei avere una null pointer exception in qualunque istante ogni volta che ho un punto quindi ho un riferimento punto o qualcosa lì potrei avere una null pointer exception per cui avrei il mio programma pieno di throws oppure try catch per cui la scelta che è stata fatta da chi ha progetto l'eccezione in java è stata quella di andare a dividere le eccezioni in checked e unchecked quelle checked sono quelle per cui il compilatore come abbiamo visto nel caso della university exception ci obbliga a mettere o un try catch oppure un throws le eccezioni unchecked che quindi sono la classe error e tutte le sue sottoclassi la classe runtime exception e tutte le sue sottoclassi non hanno questo vincolo quindi se vengono lanciate io non ho l'obbligo di andare a gestirli in qualche modo quindi non devo mettere né un try and catch né un throws attenzione non devo però volendo posso c'è un problema c'è un problema qui sotto più specifico ci torniamo poi dopo magari se me lo scrivi sul su slack vediamo di risolverlo ok quindi l'idea è ho una queste due grosse categorie alcune quelle della mia applicazione che devo gestire in qualche modo le altre quelle del sistema java che invece non sono obbligato a gestire tuttavia volendo le posso gestire quindi io posso tranquillamente ad esempio andare all'interno della mia classe quindi qui andare a mettere un null pointer exception potrei andare anche a mettere un errore quindi catch out of memory exception error scusate è un errore non è un exception il punto è che che cosa potrei scrivere qui se la java virtual machine mi dice che la memoria è finita che cosa posso fare al limite posso stampare un messaggio d'errore e poi terminare comunque non posso neanche provare a concatenare due stringhe perché in realtà la concatenazione richiede di creare nuove stringhe e quindi mi occuperebbe della memoria che comunque non c'è quindi sebbene queste io le possa intercettare magari per scrivere in un file di log che è finita la memoria ma non nulla di più altre eccezioni quelle più specifiche tipo university exception quindi le eccezioni specifiche della mia applicazione invece ragionevolmente le devo intercettare e devo gestirle in qualche modo se non le gestisco abbiamo visto che la nostra eccezione galleggia raggiunge il main sorpassa quello e poi viene bloccata dalla virtual machine che termina l'esecuzione del programma ok direi che questa è una panoramica molto veloce e pratica su quelli che sono le caratteristiche essenziali delle eccezioni quindi le basi sono queste domanda il costruttore di exception è vuoto il costruttore di exception non è vuoto il costruttore della university exception è vuoto tranne questo super è ovvio che io in realtà potrei avere qui tutte le informazioni che voglio per cui ad esempio qui potrei avere un int student id int course id e avere degli altri costruttori che usate int id per cui posso dire student id uguale id per cui nel momento in cui vado a intercettare l'eccezione posso andare a prendere questi dati aggiuntivi che sono dentro l'university exception per gestirli in qualche modo quindi in generale io posso andare a scrivere le mie classi eccezione l'unica diciamo convenzione è che normalmente c'è un messaggio descrittivo perché in un modo o nell'altro quando intercetto un'eccezione devo andare a stampare a poter stampare un piccolo messaggio per spiegare cosa è successo oltre a questo posso ovviamente aggiungere dentro la mia classe tutte le informazioni aggiuntive utili per andare a capire meglio qual è la causa dell'eccezione e ovviamente rispondere in maniera adeguata quindi in questo caso poi i costruttori potrebbero non essere vuoti in generale però sono molto sintetici queste sono classi che contengono esclusivamente dati non contengono tanti metodi perché sono poco utili cioè trasmettono l'informazione il fatto che esiste che viene lanciato mi dice che c'è qualcosa che non va i dati al suo interno mi dicono che cosa in particolare non è andato allora il programma lo metto su Subversion subito sulla Finally allora cosa succede quando io metto un'operazione di Finally allora torniamo al nostro scusate Main qua allora questi ve li ho messi così come esempio ma tendenzialmente non hanno molto senso il metodo scusate la clausola Finally che posso utilizzare in coda a un try catch serve per andare a intercettare qualunque evenienza quando io scrivo Finally qui dentro vado a mettere un qualche frammento di codice che sostanzialmente viene eseguito alla fine e comunque vada a finire quindi qui comunque sia questa stampa viene eseguita in pratica cosa succede se io se io ho l'eccezione salto alla catch dopo la catch vado a eseguire la finally se io non ho una eccezione non vado a fare la catch ma vado a eseguire la finally quindi è un qualcosa che equivale un pochettino a mettere questa costringa qua qui sotto qual è la differenza tra queste due cose è che nel caso in cui ci sia un'eccezione che non è quella intercettata da catch questa chiamata non verrà mai eseguita quindi salvo altre eccezioni questa qui viene eseguita anche se ci sono altre eccezioni quindi immaginate una null pointer exception o un'altra eccezione che io non vado a intercettare lì comunque questa riga viene eseguita che il mio programma termini tranquillamente il try quindi assenza di eccezioni che il mio programma salti dentro il catch quindi ho un'eccezione che ho intercettato e infine nel caso in cui venga generata un'eccezione che non è una di quelle che ho intercettato a cosa serve il finally sostanzialmente serve per andare a garantire di aver ad esempio chiuso un file ho chiuso una connessione ho fatto qualche operazione di mi sistema tutto e voglio essere sicuro che in qualunque evenienza abbia sistemato domanda se nel metodo find avessimo messo soltanto il throw allora il throw non ho capito la domanda allora il metodo find è questo cosa vuol dire mettere soltanto il throw se non mettere un if ah ok allora io potrei mettere la dichiarazione throws anche senza mettere dentro le istruzioni di throw se io metto se io metto throws automaticamente chi sta sopra quindi chi chiama questo metodo deve gestire l'eccezione altrimenti il compilatore mi dice che ho un'eccezione unhandled quindi la presenza di quella dichiarazione permette a chiunque utilizzi questo metodo di capire che potrebbe essere generata un'eccezione poi il compilatore se io non metto questo non mi dice nulla ok non va a verificare che effettivamente esista qualche possibilità qualche percorso che può generare l'eccezione la verifica di tutti i percorsi terminano con un return viene fatta ma non viene fatta che tutti i percorsi che almeno un percorso abbia una throw a questo punto dall'esterno del metodo find io non ho modo di sapere se questo metodo può generare oppure lo dichiara ma in realtà non genera quindi millanta la possibilità di generare eccezioni ma in realtà non lo faccio mai tutte le volte che è un metodo che nella sua dichiarazione nella sua signatura c'è scritto throws significa che devo gestire quelle eccezioni in qualche modo o con un try cache oppure con un throws quindi il throws serve esclusivamente per garantire al compilatore la possibilità di fare i controlli sulla correttezza della gestione delle eccezioni allora se io metto soltanto il throws ma non dentro nessun throw significa che in realtà non sto complicando la vita a chi mi chiama viceversa se io metto soltanto il throw e non il throws il compilatore mi dice che c'è un errore perché se c'ho un throw ovviamente l'eccezione c'è e quindi la devo gestire in qualche modo attenzione a utilizzare le eccezioni soprattutto per gli esercizi di laboratorio e per l'esame perché come avete visto prima nel momento in cui io metto un'eccezione automaticamente i test risultano errati perché se io ho scritto i test nell'assunzione che non venga generata nessuna eccezione e poi in realtà il codice può generare un'eccezione c'è un mismatch e quindi il compilatore non mi lascia combinare le cose o comunque in fase di esecuzione mi aspetto un codice che non genera eccezioni invece un codice che lo genera e quindi i test non vengono eseguiti quindi in genere l'idea è se voi avete nel vostro esercizio un metodo che non genera eccezioni quindi non ha nessuna trowse non aggiungete la trowse perché altrimenti andate a impattare sui test che quindi non passano più quindi le trowse devono essere messe in partenza in modo che chi scrive i test sappia che può esserci un'eccezione e quindi ovviamente scriva dei test di conseguenza quindi non aggiungete eccezioni dappertutto ma allora non mi è chiaro in che caso metto sia il try catch che il trowse allora i casi in cui metto sia il try catch che il trowse sono rari nel senso che in questo caso specifico vedete che qui ho messo un blocco try catch e poi in alto ho messo il trowse cosa vuol dire vuol dire che il codice che sta nel blocco try verrà verificato tutto quello che sta fuori sostanzialmente se genere eccezioni queste verranno rinviate al chiamante normalmente l'ho fatto perché così ho messo un unico blocco try catch altrimenti avrei dovuto mettere un blocco try catch attorno a ogni possibile chiamata ad esempio qui e poi anche qui avrei dovuto mettere tanti blocchi try catch quindi per semplicità ho messo qua su un trowse che mi ha risparmiato questa parte normalmente quando scrivo un metodo le strategie sono o metto un blocco try catch per intercettare l'eccezione oppure metto un trowse che sostanzialmente mi dice rinvio l'eccezione al chiamante e qui non la gestisco domanda se all'esame un metodo deve generare un'eccezione avrà già la dichiarazione trowse sì se all'esame o anche negli esercizi futuri dei prossimi lavoratori voi trovate nella descrizione dei requisiti la necessità che un metodo possa generare un'eccezione nel codice troverete che quel metodo ha la dichiarazione trowse l'eccezione che può generare ok a questo punto possiamo considerare conclusa l'elezione odierna quindi di panoramica su sulle eccezioni vi pubblico in realtà l'ho già fatto ma vi metto anche l'annuncio su slack delle un paio di lezioni su quelli che sono i tipi generici che saranno poi l'oggetto della prossima lezione di mercoledì tenete presente che sia le eccezioni che i tipi generici non sono da utilizzare meglio se volete potete farlo ma con molta cautela nell'esercizio dell'idraulica che è quello che vi è stato assegnato venerdì scorso quindi sono degli argomenti che poi vedremo in in funzione per il terzo laboratorio quindi quello non di questa settimana ma ancora della settimana successiva domanda se creo un nuovo metodo o classe e devo gestire eccezioni nei test ci saranno problemi no allora il problema dei test nasce se nella dichiarazione che noi vediamo il metodo non genera nessun eccezione e voi la aggiungete perché il test non si aspetta l'eccezione e invece il codice che voi ci date genera l'eccezione quindi questo diciamo incompatibilità blocca il test se però all'interno del vostro codice voi gestite eccezioni le intercettate eccetera ma non aggiungete dei trolls ai metodi quelli di partenza che vi diamo noi ovviamente non c'è nessun problema quella parte lì i test non la vedono ok a questo punto direi per oggi chiudiamo la lezione qui guardatevi per mercoledì prossimo le lezioni relative ai tipi generici che saranno per l'appunto l'argomento di quella lezione buona giornata buon pomeriggio a tutti noi ci rivediamo mercoledì prossimo a tutti a tutti che saranno